La ricetta che preparo è il Borscht, una zuppa di origine ucraina a base di barbabietola rossa. La barbabietola rossa è un ingrediente ricco di antiossidanti e di vitamina A, utile per la salute dei nostri occhi e per il progetto iNutrition. La pentola a chiusere oggi è la Crockpot, una pentola elettrica che cuoce lentamente a bassa temperatura. Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!